Buonasera a tutti, benvenuti, vogliamo iniziare questo nostro incontro con un applauso. Un saluto a coloro che ci seguiranno tramite i nostri mezzi di comunicazione che sono offerti dalla LAM Produzioni e grazie a voi che avete accettato questo invito in questa calda serata di luglio dove c'è questo vento che guida un po' di refrigerio anche se non come ogni sera, però un po' d'aria c'è. Siamo giunti ormai al terzo incontro della terza edizione della Calabria Teologica. Questa iniziativa che ha avuto la sua origine, il suo inizio, la sua intuizione attraverso il professore Amendola che questa sera non è presente per altri motivi, lo rincontreremo nel prossimo incontro che sarà l'ultimo perché quest'anno sono stati programmati quattro incontri, per cui ne abbiamo fatto già due, questo è il terzo e il prossimo chiuderemo per quest'anno 2024. E per questa sera noi abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi due biblisti, entrambi parroci dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Vi accogliamo con una pausa, sono padre Gabriele Bentoglio e don Antonino Sgro. Padre Gabriele Bentoglio è un padre scalabriniano, avete mai sentito questo termine? Don Giovanni, Giovanni Battista Scalabrini è il suo fondatore, un istituto particolare, vi invito anche a guardare un po' le notizie su internet, una fondazione missionaria. Padre Gabriele è nato a Bergamo il 7 marzo del 1962 ed è stato ordinato presbitero il 22 aprile del 1989, docente in vari istituti, soprattutto all'inizio del suo ordine. Nel maggio 2010 Papa Benedetto XVI lo ha nominato sottosegretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che è un po' il proprio anche dell'istituto a cui appartiene. È parroco attualmente presso la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Sant'Agostino, in Reggio Calabria e ricopre anche all'interno dell'Arcidiocesi il ruolo di delegato per la vita consacrata e direttore del centro diocesano Migrantes. Don Antonino Sgro, nato a Melito Portosalvo il 29 giugno del 1975 e ordinato sacerdote il 2 luglio del 2005. Nel 2008 ha conseguito la licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e nel 2011 il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. Attualmente è il parroco di San Domenico in Reggio Calabria, l'antico convento dei padri domenicani, responsabile del servizio di pastorale universitaria dell'Arcidiocesi di Reggio Bova e docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico Pio XI di Reggio Calabria di cui è anche direttore. Di cosa parleremo questa sera? Come avete visto anche dal manifesto che è stato pubblicato c'è un'opera, chi è interessato naturalmente al termine di questo momento la può richiedere, Cristo sia formato in voi, è una miscellanea per i trent'anni dell'Istituto Pio XI di Reggio Calabria. La riflessione di questa sera trae spunto dall'opera curata da Don Antonino, Cristo sia formata in voi, miscellanea per i trent'anni dell'Istituto Teologico di Reggio Calabria, pubblicata nel 2023 dalla casa editrice TAU, in cui è presente l'articolo di Don Antonino su cui discuteremo questa sera. In pratica noi prenderemo come riflessione la lettera agli Efesini e in particolare il seguente passo 6, 14, 17 dice così, riguarda l'armatura di Dio, l'armatura spirituale. Prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso, la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della Pace. Ecco dunque il tema che i nostri relatori affronteranno questa sera. Come annunciare oggi il Vangelo della Pace? Li ascoltiamo. Bentrovati. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e della pazienza che ci userete. Entro subito nel tema che come è stato ben presentato verterà su questo focus, come annunciare il Vangelo della Pace a partire da un articolo che commenta il testo di Efessini 6, l'armatura spirituale del cristiano nel suo combattimento contro le potenze di questo mondo. Però vorrei fare un piccolo passo indietro, brevemente, citando Efessini 2, 13-14-17 Ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Ascoltate come l'autore insiste molto sulla pace, ma non ne parla genericamente. Dice in maniera esplicita che Cristo è la nostra pace. Lo dice dunque esplicitamente, ma lo dice anche attraverso l'idea della riconciliazione, dell'unità e il loro contrario, l'inimicizia. Ci sono altri passi delle lettere cosiddette autentiche di Paolo in cui si parla di pace. Cito ad esempio Romani 5, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Romani 15, 33, il Dio della pace sia con tutti voi. Galati 5, 22, il celebre passo sui frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, eccetera. Ma domandiamoci ai tempi di Paolo e anche dopo, qual era l'idea di pace che vigeva nel contesto del Mediterraneo? Qui abbiamo ascoltato che Cristo fa la pace e riconcilia gentili e giudei. I gentili, i romani, che dè avevano di pace? La Pax Romana, d'Augusto in poi, ricordate, è vero, che era assenza di conflitti, che era mantenimento di una situazione di sicurezza, anche se aveva più una funzione ideologica, propagandistica, cioè serviva a giustificare e a legittimare agli occhi dei popoli dell'impero il dominio di Roma. Invece per i giudei il concetto di pace era molto più ampio, non poteva ridursi all'assenza di conflitti, ma come ci dirà meglio padre Gabriele, Shalom indica la totalità del benessere fisico, spirituale, l'armonia globale della vita in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue relazioni, anche vittoria, prosperità. Insomma, la pace è la salvezza integrale dell'uomo e in quanto tale è dono di Dio, un bene per tutto il popolo e per tutti i popoli. La pace è il ritorno della creazione alla giustizia e alla verità. Ora Paolo, o l'autore, non entro in questo dibattito della lettera agli Efesini, potrebbe essere stato un discepolo di Paolo o semplicemente un suo scriba, afferma che tutto questo si compie in Cristo. Cristo è la nostra pace. Se Cristo è la pace, ed è colui che dona la pace, qual è il compito del credente? Lo dice Efesini 4, versetto 3, vedete ci stiamo avvicinando, da Efesini 2, Efesini 4, arriveremo a Efesini 6. Il compito del credente è conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Quindi il vincolo è ciò che lega insieme, che realizza una feconda unione tra diversi giudei e pagani. Ora, Paolo ci presenta, o meglio noi dessumiamo un cammino di pace a partire da un'immagine paradossale che sembrerebbe negarla la pace, cioè l'armatura. Cercheremo di capire perché. Ora si parla dell'armatura, vi dicevo in questo capitolo 6, ai versetti 14-17. E prima Paolo, l'autore della lettera, ha parlato della vita domestica, quindi ci ha offerto un quadro sereno, ordinato, della dimensione familiare per come dovrebbe essere secondo il piano di Dio, il rapporto tra moglie e marito, tra figli e genitori, tra schiavi e padroni. E poi si passa a questo orizzonte della battaglia che sembra negare l'armonia familiare. Ma di che tipo di battaglia si tratta? Che battaglia ci presenta, Paolo? Ci consiglia, ci sorta a vivere? Vedete, ci sono battaglie e battaglie, vero? La Bibbia racconta anche delle guerre, pensate all'Antico Testamento, e ci dice, libro del Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa. Ci domandiamo c'è un tempo per la guerra? Se dovessimo rispondere così rapidamente a questa domanda dovremmo dire eh sì, purtroppo ogni tempo è tempo di guerra. Quello che sta accadendo ai nostri giorni lo testimonia. però Paolo parla della nostra battaglia. C'è una battaglia che dobbiamo condurre noi credenti. Quindi esisterebbe una guerra giusta. La dottrina sociale della Chiesa, badate bene, nega il concetto di guerra giusta. Ma noi cristiani abbiamo una guerra giusta da combattere. E Paolo precisa al versetto 12 che la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue. Cioè non è contro altri fratelli. E allora chiediamoci l'unica battaglia ammissibile per noi cristiani è contro chi? La dobbiamo combattere contro chi? Dobbiamo combattere contro noi stessi. E quindi è un combattimento spirituale. O meglio contro quella parte di noi che diremmo grossolanamente strizza l'occhio alle potenze di questo mondo. C'è un combattimento insomma contro le insidie del diavolo. Insidia. E' colui che vuole sedersi al posto tuo. Vuole occupare uno spazio che non è suo. E' il tuo. E' di Dio. Ora il vero combattimento sembra dirci l'autore della lettera è sempre contro il mio cuore che ha fatto entrare delle potenze invisibili tenebrose. Finché io combatto contro gli altri vedete la mia battaglia è sbagliata. La vera battaglia direbbe un bravo autore mi piace tanto Don Fabio Rosini e contro le menzogne che ho nel cuore. Ecco. Se io non sono libero dalle mie tenebre non sarò mai nella luce. Di fronte a una crisi matrimoniale riflettiamo l'unica cosa che puoi cambiare è il tuo cuore non è il cuore del coniuge attenzione. Quindi noi dobbiamo vivere la giusta battaglia. Allora vorrei offrirvi questo primo spunto partendo da questo testo. Dobbiamo combattere una battaglia per fare la pace per arrivare alla pace. La prima battaglia da combattere è contro le menzogne che ci sono nel nostro cuore. Ancora Paolo presenta dunque in questo testo sei armi concrete che però non sono armi offensive tranne l'ultima vedremo e sono atteggiamenti posture dell'anima e prima di presentarci queste armi dice state saldi cioè state pronti in piedi come le sentinelle che sorvegliano. Ecco noi dobbiamo essere pronti allerta perché chi è addormentato narcotizzato non può vivere questo combattimento spirituale e quindi non può costruire la pace. Ora nell'articolo presente in questo libro cerco di sottolineare come le armi che Paolo uscita in qualche modo lui le ricava dall'Antico Testamento e vi cito solo Isaia 59 17 in cui si parla della corazza dell'elmo delle vesti e del manto e Sapienza 5 17 20 in cui si parla ancora della corazza dell'elmo dello scudo e della spada questa è l'armatura di Dio in Paolo diventa tutto questo l'armatura che viene data in dotazione al cristiano come dono di Dio evidentemente l'armatura appartiene a Dio ma è condivisa col cristiano è partecipata a lui allora vediamo rapidamente quali sono queste armi la prima attorno ai fianchi la verità dunque si fa riferimento qui alla cintura la cintura che permetteva di infilare la tunica e quindi di favorire il movimento delle gambe di acquistare maggiore libertà l'espressione cingersi i fianchi pensate al testo di Esodo 12 che ci racconta l'accadimento della Pasqua significa proprio essere pronti ecco in quale modo dice il libro dell'Esodo mangerete la Pasqua con i fianchi cinti sandali ai piedi il bastone in mano lo mangerete in fretta allora attenzione perché ciò che dobbiamo avere ai fianchi i nostri fianchi si devono cingere della verità l'autore ci vuole dire essere pronti per la verità essere pronti a partire per la verità perché appunto i fianchi cinti è l'atteggiamento di chi si mette in movimento allora la verità richiede un cammino richiede anche un cambiamento perché la verità è altro da te è oltre te stesso verità che etimologicamente significa svelare una cosa nascosta diceva San Giovanni della Croce per andare dove non sai devi passare per dove non sai noi spesso cerchiamo dei luoghi sicuri la nostra comfort zone invece qui l'autore vuole dirci che la fede proprio perché ricerca della verità ci chiede di cambiare tante volte vivere nella verità significa non innamorare dei propri pensieri e poi ancora molto bella l'altra arma la corazza della giustizia ora l'uomo è l'unico animale che si veste se ci pensate gli altri animali non si vestono l'uomo è un animale che però si veste nella Bibbia si parla di coprire la nudità già da Adamo quindi un atteggiamento di protezione di custodia da parte di Dio nell'uso ellenistico la corazza era di metallo nell'uso romano di cuoio un cuoio molto duro perché si sagomava meglio allora la corazza per un soldato romano copriva tutti gli organi vitali perché? perché se io vengo colpito in alcuni punti muoio se vengo colpito in alcuni punti della mia vita spirituale io muoio la nostra vita cari fratelli è minacciata dalle insidie del mondo ma ognuno di noi ha qualche punto più vulnerabile allora Paolo ci chiede di mettere addosso la corazza della giustizia non possiamo qui soffermarci tanto sul concetto di giustizia nella nella Bibbia e la giusta relazione con Dio prima di tutto ma anche col prossimo ecco la giustizia è basare la propria vita sul rapporto con Dio la persona ingiusta è la persona che non crede più alla paternità di Dio non non basa la sua vita su questa relazione ora l'uomo giusto che veste la corazza della giustizia rimette la sua causa nelle mani di Dio cioè vive credendo alla paternità e alla provvidenza di Dio e non ha bisogno di farsi giustizia da solo tante volte quando la nostra vita è messa a dura prova forse noi perdiamo il riferimento in Dio e cerchiamo le nostre vie no l'uomo giusto rimane appoggiato la radice aman nell'antico testamento è proprio avere questa base solida avere stabilità in Dio ecco quindi un altro passo per la pace è rimettersi con fiducia alla paternità e alla provvidenza di Dio dopo il primo passo che era la battaglia contro le menzogne del nostro cuore ancora Paolo parla dei calzari ai piedi eccolo il testo i calzari le calighe erano sandali militari molto robusti con una suola molto spessa munita di grossi chiodi alla base perché c'era una sorta di griglia di chiodi sotto i piedi perché serviva a dare stabilità al soldato ma anche gli permetteva di muoversi ora vedete questa calzatura ai piedi serve al credente per propagare il Vangelo della pace ci ricolleghiamo al concetto di prima della giustizia io devo rimanere saldo in Dio devo poggiare la mia vita su di Lui se faccio questo una volta che faccio questo io posso acquistare quella capacità di movimento per propagare il Vangelo della pace qui possiamo citare dei passi dell'Antico Testamento come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace annunciare la pace è davvero un'esperienza di bellezza ancora Paolo dice afferrate sempre lo scudo della fede sempre interessante questo avverbio perché vedete tante volte noi pensiamo che le nostre battaglie debbano avere un termine siamo provati e giustamente è umano questo speriamo che prima o poi questa prova finisca per stare in uno stato di quiete ma qua sembra dirci l'autore che la battaglia non è occasionale sempre noi dobbiamo afferrare questo scudo non dobbiamo più di tanto attenderci il momento tranquillo perché la fede si esercita sempre la fede è sempre un'attenzione però serena e felice perché siamo certi della meta siamo certi del risultato finale attenzione perché lo scudo un po' come la corazza era molto molto lungo non dovete immaginare uno scudo piccolo quindi copriva tutta la persona e quindi sta a indicare un accesso totalmente negato qui sembra dirci Paolo se tu vuoi costruire la pace ci sono delle cose a cui bisogna dire di no e mentre tu dici di no ad alcune cose che di per sé ti allontanerebbero da Dio da questo riferimento saldo sicuro tu porti avanti il tuo cammino di fede e lo fai in maniera continua poi ancora l'elmo della salvezza l'elmo non era sempre usato a differenza dello scudo quando per esempio si marcia non si tiene l'elmo anche perché immaginate no una struttura di metallo di quel genere in testa creava una certa pesantezza ora cosa può significare l'elmo potrebbe significare vedete che tutti i nostri problemi vengono dai pensieri se ci pensate sono i pensieri che ci salvano o ci dannano se noi coltiviamo informazioni o pensieri sbagliati inevitabilmente ci condanniamo all'infelicità allora tenere l'elmo della salvezza vuol dire in un certo senso controllare i pensieri e evidentemente coltivare quei pensieri che vengono da Dio e che costruiscono la pace ed evitare ogni pensiero di scoraggiamento e infine Paolo ci presenta l'unica arma offensiva che è la spada dello spirito che qui è la parola in quanto realtà concreta la parola di me che adesso sto ascoltando la parola che ci dice la lettera agli ebrei è una spada a due tagli che divide che fa ordine che ci aiuta a realizzare il discernimento che è parola di verità ci ha prima detto l'autore capace di uccidere la menzogna quelle menzogne nascoste nel nostro cuore ora vi dicevo che questa immagine viene dessunta da Isaia 59 e da Sapienza 5 18 18 in particolare ma vorrei ancora ribadire che l'armatura va compresa come dono divino spirituale piuttosto che capacità del singolo combattente cioè il successo non dipende dalle nostre virtù umane ma dal dono di Dio attraverso Cristo e questo crea un bel parallelismo con Romani 13 14 in cui si dice che il cristiano deve rivestirsi di Cristo che è l'equivalente del rivestirsi dell'armatura allora riassumo brevemente alcuni punti che secondo me da questo testo ci aiutano a coltivare atteggiamenti di pace vi dicevo più volte le battaglie contro le menzogne del cuore il rimettersi alla giustizia di Dio quindi alla paternità e alla sua provvidenza l'annunciare con gioia il Vangelo della pace il dirsi dei no accettando una tensione serena e felice la fede come la verità ti spingono sempre oltre e poi l'elmo della salvezza continuare a credere alla salvezza contro ogni scoraggiamento dare concretezza alla parola insomma e concludo costruire la pace diceva Giovanni XXIII nella pace Minterris è un compito immenso e vorrei far risuonare proprio i numeri 87 e 88 quella bellissima enciclica che dovremmo recuperare in questo tempo a tutti gli uomini di buona volontà diceva il Pontefice Santo spetta un compito immenso il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità nella giustizia nell'amore nella libertà i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani fra i cittadini e le rispettive comunità politiche fra le comunità politiche fra le stesse comunità politiche fra individui famiglie corpi intermedie comunità politiche da una parte e dall'altra la comunità mondiale certo coloro che prestano la loro opera alla ricomposizione dei rapporti della vita sociale secondo i criteri sopra accennati non sono molti ad essi va del nostro apprezzamento il nostro pressante invito a perseverare nella loro opera con slancio sempre rinnovato e ci conforta la speranza che il loro numero aumenti soprattutto fra i credenti è un imperativo del dovere è un'esigenza dell'amore ogni credente in questo nostro mondo deve essere una scintilla di luce un centro di amore un fermento vivificatore nella massa e tanto più lo sarà quanto più nell'intimità di se stesso vive in comunione con Dio infatti non si dà pace fra gli uomini se non vi è pace in ciascuno di essi se cioè ognuno non instaura in se stesso l'ordine voluto da Dio vuole l'anima tua si domanda son T'Agostino vincere le tue passioni sia sottomessa a chi è in alto e vincerà ciò che è in basso e sarà in te la pace vera sicura ordinatissima qual è l'ordine di questa pace Dio comanda l'anima l'anima il corpo niente di più ordinato grazie buonasera a tutti è acceso sì grazie per essere qui per avermi invitato ad essere con voi a fare questa riflessione che certo d'estate il 12 luglio 11 luglio a caldo a quest'ora di sera forse è un po' troppo impegnativo riflettere sul Vangelo della pace però credo che sia anche molto importante è un tempo in cui riflettere sulla pace non solo è importante ma è indispensabile però prima di cominciare questa riflessione vi chiedo di fare uno sforzo non concentratevi sulle mie parole o sull'accento ma questo qua non è calabrese chissà da quale parte del mondo viene sono bergamasco l'ha detto già quindi non concentratevi sulla tonalità sull'accento sulle parole uno scrittore antico ha scritto prendi le mie frasi scuotile bene lascia cadere le parole e tratteni il messaggio perché questo sarà importante per la tua vita ecco allora vorrei che facessimo questo sforzo stasera lasciate cadere le mie parole l'accento e trattenete il messaggio perché la riflessione è molto importante indispensabile ma è anche difficile riflettere oggi sul tema della pace in un mondo dove la guerra si è fatta così vicina e facciamo fatica a recuperare il senso della pace io cercherò di fare uno sforzo insieme con voi per capire cosa vuol dire il Vangelo della pace praticamente facendo una carrellata sulla Bibbia dove conduce la parola di Dio a capire il senso della pace e qual è la vera pace a cui possiamo aspirare un articolo di qualche anno fa sulla rassegna di teologia riportava un contributo di un teologo che scriveva così una denuncia praticamente una provocazione scrive la riflessione teologica non ha saputo o non ha avuto la forza di partire dalla chiara centralità della pace nella rivelazione biblica per contribuire alla costruzione di civiltà non violente è una provocazione e continuava dicendo è ancora molto difficile trovare delle teologie che diano centralità alla pace considerata non come un tema della morale o uno fra i tanti argomenti nuovi del pensare teologico ma come la dimensione attraverso la quale scandagliare tutto il mistero di Dio di Cristo e della Chiesa ecco perché il tema di questa sera è immenso se vogliamo davvero scandagliare tutto il mistero di Dio di Cristo e della Chiesa però questo è lo scopo del colloquio di questa sera allora per riflettere insieme con voi parto dalla liturgia quando celebriamo la messa la liturgia eucaristica ci offre dei continui riferimenti alla pace all'inizio della celebrazione nelle formule spesso delle lettere paoline di saluto la grazia e la pace di Dio nostro Padre del Signore Gesù Cristo siano con voi il saluto del vescovo è anche più chiaro quando annuncia la pace sia con voi e poi alla fine della messa quando l'assemblea si scioglie ecco il saluto che riprende il tema della pace la messa è finita andate in pace e all'interno della stessa celebrazione ci sono molti rimandi alla pace nei riti di comunione chi presiede la messa invoca la pace ricordando che Gesù ha detto agli apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace e questa è una citazione che si trova nel Vangelo di San Giovanni capitolo 14 versetto 27 però San Giovanni aggiunge anche altre parole a queste che utilizza la liturgia perché Gesù aggiunge non come la dà il mondo io la do a voi allora proprio questa precisazione secondo me contiene il Vangelo della pace la pace annunciata promessa e data da Gesù è diversa da quella del mondo e allora è importante cercare di individuare questa diversità in modo da mettere a fuoco la pace come la intende la rivelazione biblica diversa da come la intende il mondo ecco a me pare che la pace del mondo chiamiamola così è piuttosto frutto di compromessi dove magari intervengono il dialogo la diplomazia si arriva a qualche negoziato che produce dei trattati degli accordi dei patti insomma la dialettica è tra pace e guerra c'è una situazione di tensione che forse può addirittura provocare un'aggressione la violenza un conflitto armato soprattutto quando le ostilità sono tra stati sovrani gli accordi che questi stati fanno tra loro puntano a ottenere risultati positivi ma quali sono? il perseguimento del bene nazionale e bisognerebbe aggiungere la ricerca del bene comune attenzione però che questa finalità cioè la ricerca del bene nazionale e del bene comune di fatto costituisce il diritto e il dovere primario dell'autorità politica anzi dà a questa stessa autorità politica titolo giuridico e morale per risolvere un conflitto e se ci riesce con un trattato bene altrimenti può ricorrere alla forza cioè alla guerra il diritto internazionale nasce proprio come diritto di pace e di guerra ius pacis et belli e allora si capisce che la guerra fra stati sovrani è lo strumento estremo ma strumento riconosciuto per tutelare e promuovere il bene di uno stato e da questi elementi di base è venuta fuori la tese che la guerra non è un male assoluto la guerra non è di per sé disonesta si vede che c'è una chiara impostazione morale della questione della guerra e della pace e del resto la morale tradizionale ha sostenuto la tesi che possa esistere una guerra giusta bisogna dire che la chiesa soprattutto nel secolo scorso ha svolto un intenso magistero e ministero a favore della pace e ha contribuito anche a chiarire le questioni teoriche sulla legittimità di una guerra per difendere il bene comune il catechismo della chiesa cattolica per esempio al numero 2309 dice che per la legittimità morale di un intervento armato cito occorre contemporaneamente che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole grave e certo che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci che ci siano fondate condizioni di successo che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare ma questa impostazione deve lasciarci perlomeno perplessi se non addirittura sconcertati è chiaro che se ci mettiamo a confronto con questa impostazione forse si riesce a raggiungere la pace come la dà il mondo ma non è il Vangelo della pace Papa Giovanni XXIII appena citato Don Tonino l'enciclica pace min terris ha scritto anche riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia più chiaro di così e il concilio Vaticano II in Gaudium e spesso 81 ha detto si convincano gli uomini che la corsa agli armamenti alla quale si rivolgono molte nazioni non è una via sicura per conservare saldamente la pace né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile nuove strade converà cercare partendo dalla riforma degli spiriti perché possa essere rimosso questo scandalo e al mondo liberato dall'ansietà che lo opprime possa essere restituita una pace vera allora arriviamo al dunque il Vangelo della pace non la pace del mondo Papa Francesco ha usato molte espressioni per parlare di pace e di guerra dall'inizio del conflitto in Ucraina non è passato un giorno senza un appello a far tacere le armi e a mettere termine alla tragedia di una guerra che miete vittime provoca milioni di profughi devasta le città alimenta l'odio tra i popoli ha detto che la guerra è un male assoluto terribile sciagura virus senza vaccino offesa verso l'umanità e verso Dio la pace invece è ben assoluto seme di fraternità universale condizione necessaria per lo sviluppo della vita umana cuore delle religioni in un'intervista dell'emittente radio televisiva statunitense Columbia Broadcasting System scorso 24 aprile Papa Francesco ha detto una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine ma a questo punto mi sembra chiaro che emerge una chiara distinzione tra la pace del mondo e il Vangelo della pace il Vangelo della pace ovviamente non si limita ai quattro Vangeli canonici è un annuncio pieno di bellezza e di bontà che percorre tutta la rivelazione biblica e allora dobbiamo trovare nelle pagine sia dell'Antico che del Nuovo Testamento le caratteristiche della pace che definiscono questo Evangelion ed è lo sforzo che cerco di fare adesso far vedere attraverso alcuni passaggi della Bibbia quali sono le caratteristiche della pace che non è quella del mondo ma è il Vangelo della pace la dimensione più evidente perché è la più semplice e anche la più superficiale è quella che definisce la pace come prosperità fisico materiale sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento Shalom e Irene le due parole che usano le due sezioni della Bibbia naturalmente si tratta di un ambito positivo trattandosi di prosperità fisico materiale un ambito positivo che mette a fuoco uno stato di benessere di pienezza prima ancora del significato negativo di assenza per esempio di conflitti o di tensioni e in effetti nelle nostre lingue moderne abbiamo la tendenza a definire la pace sulla base di ciò che la contrasta piuttosto che sugli elementi che compongono la positività delle cose così come dovrebbero essere di conseguenza anche la definizione di quelli che operano per la costruzione della pace viene ridotta all'ambito della passività dove la pace si limita a evitare la guerra invece la pace biblica è dinamica mette in moto tutte le risorse a disposizione per l'edificazione di un contesto globale di positività e di completezza in primo luogo quindi il riferimento è alla realtà delle cose non tanto alla relazione tra le persone o alle relazioni tra uno stato di tranquillità o serenità mentale che la persona o i popoli possono vivere quindi il primo riferimento è alle cose come dovrebbero essere le cose e allora sotto questo profilo Shalom e Irene segnalano una prosperità fisico materiale protetta da minacce tangibili come la malattia la fame la guerra questo si vede bene quando a qualcuno viene chiesto per esempio di rendere conto dello Shalom di qualcun altro cito Genesi 37.14 come esempio lì è Giacobbe che domanda a Giuseppe suo figlio di andare a vedere come sta lo Shalom dei suoi fratelli e del bestiame e di ritornare poi a dargli notizia di questo Shalom e l'interesse di Giacobbe in effetti punta sull'aspetto puramente fisico contenuto nello Shalom che si può ben vedere in una traduzione letterale del testo che dice così va a vedere com'è lo Shalom dei tuoi fratelli e lo Shalom del bestiame poi torna a riferirmi oppure lo stesso quando Giuseppe interroga i suoi fratelli ormai in Egitto quando i suoi fratelli scendono per recuperare grano per non morire di fame e per conoscere lo stato di salute di suo papà Giuseppe chiede ai fratelli come è lo Shalom del vostro vecchio padre di cui mi avete parlato vive ancora risposero lo Shalom del tuo servo nostro padre continua è ancora vivo allora è un senso fisico materiale che leggiamo anche in molti altri passi dell'antico e del nuovo testamento nuovo testamento citerò semplicemente il fatto che l'influsso semitico di questo uso del termine pace si vede bene nelle formule di saluto per esempio Marco capitolo 5 versetto 34 è Gesù che si riferisce alla donna di cui abbiamo letto appena domenica scorsa nel Vangelo la guarigione miracolosa e gli dice la tua fede ti ha salvata va in pace e si guarita dal tuo male si tratta di un riferimento ad un benessere fisico come dovrebbe stare il benessere fisico di una persona in salute ecco il primo senso di pace oppure interessante il testo di Atti 1636 dove il carceriere di Filippi congeda a San Paolo con una formula di saluto tipicamente semitica gli dice i magistrati hanno ordinato di lasciarvi andare potete dunque uscire e andarvene en e Irene in pace semplicemente siete liberi in fondo queste formule augurali esprimono il desiderio che le cose vadano come devono andare idealmente tutto dovrebbe giungere a buon fine il fallimento non dovrebbe essere la norma è il primo passo se facciamo un passo in avanti scopriamo che c'è un secondo ambito nel quale ricorre il vocabolo shalom non più quello del riferimento alle cose ma adesso che ci interessa forse di più le relazioni tra le persone relazioni interpersonali e qui shalom configura come dovrebbero stare le cose sia tra gli individui che tra i popoli ha una carica positiva anche qui ovviamente e dice anzitutto la bontà dei rapporti non tanto il fatto che non sono minati da tensioni e conflitti quanto piuttosto perché si sviluppano in opere che producono continui miglioramenti in particolare nell'itinerario della giustizia appena accennato anche da Don Tonino allora se come abbiamo visto nell'ambito fisico materiale shalom caratterizza soprattutto il concreto benessere nella sfera delle relazioni interpersonali qualifica la correttezza dei legami tra le persone questo significa che l'idea biblica di pace va oltre il significato di pace come attività che contrasta la guerra lo scontro e l'intolleranza cercare shalom richiede piuttosto un impegno costruttivo per una giusta e sana relazione tra i singoli e tra le nazioni se poi volessimo vedere più da vicino questa realtà allora potremmo vederne l'implicazione nelle relazioni sociali e soprattutto nell'ambito della giustizia anzitutto le relazioni interpersonali perché qui si rivela un uso che del resto si riflette nelle modalità delle lingue moderne quando ricorriamo al termine pace come equivalente di questo uso biblico e qui configuriamo i buoni rapporti tra le nazioni o tra i gruppi come dice per esempio il testo di Giudici 4.17 Sisara era fuggito a piedi verso la tenda di Jaele moglie di Eber il Kenita perché vi era Shalom fra Yabin re di Cazor e la casa di Eber il Kenita una relazione tra due realtà umane non solo tra popoli o tra gruppi o tra clan ma anche tra singole persone si specifica un tipico rapporto mediante questo ricorso a Shalom come nel caso di Geremia che confessa di essere deluso perché ha sperimentato il volta faccia persino dell'amico al quale applica la bella metafora dell'uomo del mio Shalom bello il testo di Geremia Geremia che al capitolo 20 versetto 10 scrive sentivo le insinuazioni di molti terrore all'intorno denunciatelo e lo denuncieremo tutti i miei amici ma letteralmente il testo dice tutti gli uomini del mio Shalom spiavano la mia caduta forse si lascerà trarre in inganno così noi prevaremo su di lui ci prenderemo la nostra vendetta bellissimo questa metafora usata nelle relazioni umane l'amico è l'uomo la donna del mio Shalom che ovviamente rientra specificamente concretamente nell'ambito della giustizia e così accade per esempio quando Isaia annuncia il rinnovamento futuro di Israele e immagina prospettive inedite di benedizione divina e di miglioramento al versetto al capitolo 60 versetto 17 scrive costituirò tuo sovrano Shalom tuo governatore giustizia Sedaka e Shalom sono messi quasi come sinonimi l'uno sovrano e l'altro governatore anzi prosegue con la profezia della fine della violenza e dell'oppressione come spiegando che questo insieme potrà produrre pace e giustizia dice nel versetto seguente quindi versetto 18 del capitolo 60 non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte un terzo un terzo settore di utilizzo del vocabolo Shalom nella Bibbia è quello dell'etica e della morale ma è quello che all'inizio dicevo è stato sottolineato come unico ambito forse nel quale abbiamo relegato il tema della pace però nella Bibbia ha una forte rilevanza l'etica o morale rimanda all'integrità intesa come adesione ai principi ai valori agli ideali e qui non si ammette l'ipocrisia come condotta di vita incoerente e immorale ma anche qui il contenuto è anzitutto positivo manifestando come una persona dovrebbe essere ecco si vede bene per esempio nel Salmo 37 dove dice che l'uomo di Shalom la donna di Shalom è tale per la sua onestà per la sua integrità di condotta per la rettitudine di vita e invece chi rifiuta Shalom è peccatore e empio destinato all'annientamento Salmo 37 versetti 37 e 38 osserva il giusto e vedi l'uomo retto l'uomo di Shalom avrà una discendenza ma tutti i peccatori saranno distrutti la discendenza degli empi sarà sterminata facciamo un passo nel nuovo testamento questa volta perché qui c'è un salto di qualità se fin qui abbiamo descritto alcuni aspetti chiedo scusa al testo biblico per la brevità e la superficialità con cui lo sto trattando ma per non tediarvi oltre il passo di qualità si fa voltando pagina nel nuovo testamento dove Eirene che traduce lo Shalom dell'Antico Testamento è tutto quel complesso di cose e di valori che è già emerso nell'Antico Testamento ma riassunto e identificato nella persona di Gesù l'ha detto già prima Don Tonino e lo riprendo ma è da sottolineare questo il Vangelo della Pace ha tanti aspetti ma se non lo riconduciamo a Gesù Cristo non raggiungeremo la pace non raggiungeremo il Vangelo della Pace e questo è evidente a partire già per esempio dall'annuncio degli angeli in Luca capitolo 2 versetto 14 Gloria Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama fino all'acclamazione che la gente rivolge a Gesù quando fa il suo ingresso a Gerusalemme Luca 14 38 benedetto colui che viene il re nel nome del Signore pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli immediatamente dopo il suo ingresso a Gerusalemme Gesù si rivolge alla città a Gerusalemme con parole di compianto e di rimprovero il passaggio iniziale dice Luca 19 42 se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi si capisce da qui che la modalità per ottenere la pace cioè il bene più grande nel quadro messianico è l'accoglienza piena di Gesù senza riserve il non aver compreso questo porterà Gerusalemme alla rovina terribile la profezia di Gesù non resterà in te pietra su pietra ed è vero anche oggi andata a Gerusalemme quante volte ho portato dei gruppi guidando dei gruppi e persino dei preti mi hanno detto padre ma io sono rimasto deluso qui si vedono solo pietre sassi la profezia di Gesù di te non resterà pietra su pietra che non sia distrutta in sostanza l'uso di eirene spiega una contraddizione apparente Gesù non è venuto a portare la pace nel senso ellenistico del termine nella tranquillità individuale tipica del sapiente che si isola e si colloca al di sopra dell'umanità comune né una situazione di assenza di conflitto più o meno temporanea in Gesù di Nazareth c'è una pace diversa che è pienezza nell'ordine umano come in quello cosmico è una duplice prospettiva che è la chiave di lettura in fondo della prima lettera ai tessalonicesi lo scritto più antico del Nuovo Testamento al capitolo 5 versetti da tre in poi scrive San Paolo quando si dirà pace e sicurezza allora d'improvviso li colpirà la rovina come le doglie una donna incinta e nessuno scamperà ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno possa sorprenderevi come un ladro voi tutti infatti siete figli della luce figli del giorno noi non siamo della notte né delle tenebre ma essere della luce della luce del giorno vuol dire essere di Gesù Cristo essere nella pace la pace dei figli delle tenebre cioè eirene nel senso riduttivo di cui ho parlato prima non ha nessuna consistenza e non porta la salvezza solo l'adesione a Cristo mette in condizione di godere della vera pace questo modo di interpretare la pace si vede bene anche in altri libri del nuovo testamento Dio ha mandato agli uomini attraverso Gesù una buona notizia di pace è il libro degli atti degli apostoli capitolo 10 versetto 36 quando Pietro deve spiegare cosa è successo nella casa del pagano Cornelio deve spiegarlo a chi gli fa tante polemiche e dice il testo degli atti degli apostoli capitolo 10 versetti 34 36 Pietro prese la parola e disse in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone ma chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque popolo appartenga e a lui accetto questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele recando la buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo che è il Signore di tutti anzi Dio è definito in più di un passo del Nuovo Testamento come il Dio della pace si trova per ben cinque volte nella lettera ai Romani nella lettera ai Filippesi in Prima Tessalonicesi e in Ebrei in questi passaggi attribuiti all'Epistolario Paolino eccetto la lettera agli Ebrei Romani 15 32 il Dio della pace sia con tutti voi 16-20 il Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi Filippesi 4-9 il Dio della pace sarà con voi Prima Tessalonicesi 5-23 il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e la lettera agli Ebrei 13-20 il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un'alleanza eterna il Signore nostro Gesù dunque la definizione di Dio oltre a quella che tutti ripetiamo sempre della prima lettera Giovanni Dio è amore è anche il Dio della pace ma questa pace cioè Gesù Cristo e infatti è soprattutto San Paolo che identifica senza mezzi termini Gesù e Irene e così conferma il carattere unico e straordinario della pace cristiana che arriva a dire in Efesini 2-14 egli Gesù è la nostra pace non più come diceva il profeta Isaia il principe della pace egli è la nostra pace e si tratta di pace estrettamente legata ai temi della vita e della gioia come si vede per esempio in Romani 8 versetto 6 i desideri della carne portano alla morte mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace la conseguenza allora è che Gesù è Irene è gioia è benessere completo della persona superiore al benessere che si ottiene dalla sola sfera materiale come si legge per esempio in Romani 14 versetto 17 il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda ma è giustizia pace e gioia nello spirito santo diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole oppure il testo di Galati 5-22 il frutto dello spirito è amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mitezza dominio di sé e questo è un passo bellissimo meriterebbe un corso di esercizi spirituali perché poco prima aveva detto la carne ha tanti desideri e fa un lungo elenco perché la carne sparpaglia frantuma divide è tipico di Satana è il suo compito dividere dello spirito dice il frutto dello spirito che poi si manifesta sotto diverse angolature ma è uno solo il frutto dello spirito lo spirito porta all'unità allora la pace e la grazia di Dio sono generalmente invocate sui destinatari delle lettere delle formule di apertura e chiusura dell'epistolario Paolino Romani 15-13 il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede perché abbondiate nella speranza per la virtù dello spirito santo il carattere speciale della pace cristiana è sottolineato in Filippesi 4-7 quando si afferma che questa supera ogni possibilità di comprensione umana dice San Paolo in Filippesi 4-7 la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù nello stesso tempo perché non pensiamo che tutto dipende da Gesù Cristo viene dall'alto piove dal cielo il credente ciascuno di noi è impegnato a realizzare il Vangelo della pace per esempio lo leggiamo nella seconda lettera a Timoteo capitolo 2 versetto 22 fuggi le passioni giovanili cerca la giustizia la fede la carità la pace insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro ed è la stessa idea che troviamo anche nella lettera agli ebrei capitolo 12 versetto 14 cercate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà mai il Signore o nella prima lettera di Pietro capitolo 3 versetto 11 eviti il male faccia il bene cerchi la pace e la segua o ancora nella prima lettera di Giacomo capitolo 3 versetto 18 un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace e tanti altri passi ancora opposto alla pace è il disordine a partire prima di tutto dal disordine nella comunità cristiana scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi 14 33 Dio non è un Dio di disordine ma di pace proprio come se dicesse che se non c'è Gesù non è possibile che si concretizzi il Vangelo della pace allora concludo cominciando queste riflessioni ho citato l'articolo apparso sulla rassegna di teologia dove l'autore scrive anche queste parole dalla storia teologica del novecento riceviamo ineredità dei criteri per accostarci in modo pensante al mistero di Dio criteri che tentano di riflettere sulla memoria pericolosa di Gesù a partire dai drammi che la storia dell'uomo attraversa potremmo dire che la teologia che ci consegna alla fine del secolo ventesimo è una teologia che guarda a Dio e al suo mistero rivelato nella storia di Gesù attraverso le ferite dell'uomo ed è una teologia a cui non basta esporre delle verità ma pretende di essere spinta per il cambiamento in vista della costruzione del regno ho questa premessa di aiuto l'autore a precisare la teologia della pace non vuole ridursi ad un appendice insignificante del lavoro teologico e delle concrete vie della storia deve concepirsi come una teologia pratica politica che assume l'evangelium pacis come il criterio dal quale ripensare tutta la teologia una teologia che sia anamnesi e profezia reinterpretazione creatrice del messaggio cristiano in conclusione se vogliamo costruire il vangelo della pace alla sequela di Gesù di Nazareth bisogna elaborare una ermeneutica di pace che non sia un pensiero sull'uno o un'indagine sull'essere ma deve essere un pensiero plurale che va dall'altro umano all'altro divino e viceversa deve essere una riflessione sull'esserci che punta sulla convivialità delle differenze e questa è la sfida del nostro secolo e forse dell'intero millennio la convivialità delle differenze dove c'è l'incontro tra tante culture e anche tra tante religioni può essere uno scontro dipende da noi se il vangelo della pace lo viviamo non in attesa che piova dall'alto ma che collaboriamo per la convivialità delle differenze e infine deve essere un'ermeneutica che non si limita a porsi il problema del male della guerra ma deve essere un pensiero a partire dalle vittime terzo pilastro questo autore che scriveva sulla resegna di teologia dice che questa ermeneutica della pace non deve essere semplicemente legata al tempo ma deve essere un pensiero escatologico della risurrezione le prime due arcate mi trovano in pieno accordo quelle che abbiamo analizzato fin qui è più difficile capire e orientare questa teologia della pace verso l'escatologia e però sono sfide che la teologia potrebbe raccogliere e approfondire perché davvero raggiungiamo l'autenticità del vangelo della pace grazie fra Antonio viene un attimino qui grazie prima però di concludere c'è sempre un attimino di risonanza e perché il fatto di essere un po' al di sopra dei gradini non diventi una barriera nel dialogo mandiamo fra Antonio con il microfono in mezzo a chi ci sta ascoltando a chi ha seguito queste due conferenze due interventi sicuramente tre interventi li abbiamo possiamo iniziare con Don Emilio poi ci sarà Padre Casimiro al solito e Padre Di Turi sicuramente qualcos'altro iniziamo sì sono Don Emilio ringrazio i due relatori per averci stasera fatto gustare il vangelo della pace parlo da teologo morale e quindi da persona che si sente interpellato certamente la teologia deve recuperare questo valore ecco finora ci siamo soffermati soltanto sul valore negativo ecco pace come assenza di guerra mi risuonava mentre sentivo i due relatori parlare l'espressione romana si vi space in parabellum e quindi rivedevo dentro di me sentivo dentro di me tante cose che sono in questi mesi in questi anni purtroppo ormai siamo a più di diversi anni di conflitto penso all'Ucraina la Palestina un conflitto che non si è mai finito e forse non si finirà mai e nemmeno con il concetto due popoli due stati perché c'è tutto un pregresso io ricordo quando andai in Terra Santa qualche anno fa un frate francescano ad Aencarem mi chiamò si accorse che ero italiano poi gli disse che ero calabrese lui si ricordava alcuni frati calabrese mi disse vedi lì sotto mi fegge mi indicò l'ingresso del viale che porta poi alla chiesa di San Giovanni Battista ad Aencarem dice lì sotto io ripeto sempre mia madre e le mie sorelle eravamo nel 92 quando nella ex Jugoslavia avveniva quell'altra mattanza quella tomacello mi ricordo di mia madre e le mie sorelle che venivano come adesso dice nella ex Jugoslavia squartate e nel ventre di mia sorella e di mia madre misero un gatto morto e poi lo cucirono ecco di fronte a questo è molto difficile riuscire a parlare di pace allora ecco forse noi dovremmo essere più profetici e veramente portare avanti l'Evangelio della pace partendo dalla persona di Gesù di fronte a questi fatti anche il missile che ha colpito l'ospedale di Kiev pochi giorni fa l'ospedale dei bambini ecco certamente ripetere questa presenza di Gesù la persona di Gesù il Vangelo della pace legato a Cristo che dall'alto della croce diventa colui che dà una risposta a tutte queste nostre attese essere più profetici e guardare anche alla prospettiva escatologica ecco l'ultima provocazione della prospettiva escatologica ripensavo all'escatologia presenziale di Giovanni quindi questa escatologia che si realizza ma si realizza nell'oggi dobbiamo crederci alla pace quindi grazie e per averci richiamato a mettere al centro Gesù grazie per averci richiamato alla attenzione verso la pace che non è un raggiungimento materiale ma è un costante una costante conversione siamo qui a Paola San Francesco e Francesco di Paola esprime l'amore alla maggiore penitenza quindi questa conversione verso Dio convergere sempre verso Dio e avere sempre questo Cristo portatore di pace nei nostri cuori e quindi partire da noi per portare agli altri il Vangelo della pace Grazie a questi due gioielli di relatori non mi hanno pagato per dire queste parole mi piace sempre dire qualcosa di soft all'inizio il nostro relatore Bresciano si meravigliava che a questo orario noi potessimo tirar fuori un convegno meraviglioso però non c'è nessuno come l'altra volta e io credo che dovremmo lavorare di più come parrocchie limitrofe sono ripetitivo non me ne vogliate ma è così cioè davanti a due gioielli di relatori ma io poi me lo vedo sul web lascia stare il contatto pratico reale con le persone è altra cosa fatta questa premessina adesso vado un po' alla pace avevo appena 15 anni quando finì il concilio ne avevo la maturità di poter leggere soprattutto le quattro costituzioni così profonde ma crescendo qualcuno mi fece notare che nella Gaudium e spessi c'è qualcosa di grande per la pace da sottolineare e cioè che la pace non è su questa terra un bene raggiungibile una volta per sempre sono andato a cercare e mi è rimasto nella mente dagli anni 70 poi siamo qui nella casa di San Francesco di Paola lui ci teneva tanto a queste relazioni a ricomporre qualcosa che non andasse bene nella comunità noi abbiamo perso questo gusto cioè di sostare per riflettere per arricchirci gli uni degli altri e nel caso della pace ricomporre subito quando c'è qualcosa che prenda una brutta direzione perché poi è difficile ma molto difficile ricuggire me ne va dal Padre Nostro perché il Signore io quando faccio le mie pazze catechesi parlo che Dio ha creato una trappola nel Padre Nostro rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori ma quando mai di Gran Napoli ma quando mai cioè ci fa dire qualcosa ci fa pregare con qualcosa che non esiste nel cuore dell'uomo ecco perché avete ripetito tutte e due bisogna possedere Cristo è lì che noi troviamo la forza di relazionarci perché potremmo stare a creare tante piattaforme o un'infinità di piattaforme ma non andiamo al dunque ultima cosa uno dei miei ritornelli nelle mie pazze catechesi il Vangelo della Paz mi permette relatore Bresciano non ricordo il cognome quindi me lo vado così Bentoglio invece di Bergoglio ma siamo vicini Bentoglio Bergamasco quando parliamo di Vangelo della Pace ma questo è Wangelion lo vogliamo tradurre per quello che è e dice e cioè buona notizia gioiosa notizia quindi se questa gioiosa notizia che si identifica con il Cristo non ci affascina e allora è inutile sperare nella pace perdonatemi ma ho cercato di lavorare di meno oggi per gustare di questi momenti e lo devo a un bravissimo frate di San Francesco che negli anni 60 ci disse aboliamo gli orari della preghiera la preghiera è una cosa seria ma quante guerre ho fatto si stava lì c'era quella chiesetta tirata fuori per sostituire i lavori della basilica ma non si può pregare d'estate alle 18 in un forno crematorio ma io bestemmio e ogni volta che chiedevo a qualcuno ma perché non cambiamo l'orario padre fatemi dire qualcosa in calabrese preghiamo che dopo ci scialiamo all'aria aperta come io devo pregare del calore quel sudore e poi devo guadagnarmi che cosa ma quella gioiosa netizia io la voglio dentro di me con i miei fratelli d'estate al mattino presto e a questo orario non devo dire niente soltanto mi pongo dalla parte di qualcuno che chiede io non sono venuto a portare la pace solo la risposta per qualcuno così in generale basta non tengo niente da dire intanto grazie per queste belle risonanze che arricchiscono i nostri interventi essendo questi temi inesauribili inesauribili non solo a livello di riflessione ci ha sottolineato padre Gabriele la Bibbia dall'inizio alla fine pone al centro quasi come tema sintetico di tutta la teologia biblica il concetto di pace ma inesauribili per la loro applicazione necessità di un'applicazione pratica in una chiave si è detto escatologica quindi da ciò deriva un impegno un impegno costante per la pace da parte da parte di tutti e come ci provocava adesso il padre a partire dall'assunzione di quelle di quelle provocazioni che Cristo che Cristo ci fa perché quando ci dice che non è venuto a portare la pace ci vuole far saltare dalla sedia rispetto a un modo forse di edulcorare il Vangelo di banalizzarlo di piegarlo alle nostre comodità ecco accogliere il Vangelo della pace io credo significhi accogliere il Vangelo sine glossa per quello per quello che è un Vangelo che penetra nelle profondità della carne che ti che ti scava che ti toglie la pace paradossalmente perché appunto ci ricordava anche la lettera degli Efesini ti mette in cammino in una tensione dicevo anche prima che però è bella la tensione è faticosa da sostenere però se tu la sostieni nella fede ti poni sempre in cammino questo rende bello il tuo essere il tuo essere uomo prima addirittura che credente che cristiano perché ti poni d'innanzi a un oltre che in realtà mentre gli vai incontro scopri che ti viene incontro ecco la pace è vero la dobbiamo costruire la dobbiamo fare ma non ci dimentichiamo che prima di tutto c'è donata e come ci ricordava Don Emilio mi pare c'è donata nella nella croce di Gesù che ci ha riconciliati col Padre e tra di noi quindi è un cammino impegnativo ma della cui risultato finale siamo certi bene allora concludiamo anche questo terzo appuntamento ricordo che è a disposizione il testo potete avvicinarvi al tavolo per chi desidera acquistarlo Cristo sia formato in voi dall'editrice Tau e facciamo un applauso di conclusione a questi nostri relatori gli auguriamo un buon rientro perché vengono da Reggio Calabria per cui hanno dato un bel po' di strada per stare in mezzo a noi e un ricordo vicendevole nella preghiera all'ombra sempre di San Francesco di Paola grazie e una buona nottata mi dicono che è gratis il libro potete avvicinarvi a ritirarlo io giustamente non sapevo e ho detto dell'acquisto grazie 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 grazie